Sì 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 che si non hanno mai avuto la volle. Cristian Wulff in Niedersapton ha regalato un po' transparente. Il ha creato un Nachbiettivo, Dadegner Alistar, che era prima del Fraktionschef e poi del Landeschef. Da è stato chiaro di interessanti, se che se dovessero fare qualcosa di nuovo, ciò che è arrivato a Dadegner Alistar. Ma in Hamburg è stato chiaro. anche in Hessen, che si prende il gruppo di gruppo di gruppo di generazione. Quindi è anche per il gruppo di politica, da questo gruppo di politica venire, quando i reggierendevoli siano davanti, che non hanno mai preso. E magari è stato chiaro, che i loro chiesti di essere in due e un'altra volta, non sono molto grande. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti